Grazie a tutti. Siamo abituati nel nostro paese molto spesso, io mi sento dire quando vado a difendere l'universalismo, si fa sempre riferimento a questa frase famosa, non vi è nulla di più ingiusto di fare parti uguali fra i disuguali e quindi non ha senso difendere politiche universali che sono inevitabilmente politiche omogenee, che danno tutto a tutti, che danno ai ricchi e danno ai poveri e che danno nello stesso ammontare ai diversi soggetti. E quindi ingiustizia di fare parti uguali fra i disuguali e dunque per non fare parti uguali fra i disuguali dobbiamo avere delle politiche di tipo selettivo che quantomeno si indirizzano soltanto a coloro che sono bisognosi e quindi tengono conto del bisogno e se fatte bene anche della eterogeneità fra i bisogni. Non farlo non solo sarebbe ingiusto perché farei appunto parti uguali fra i disuguali, quindi violerei l'equità orizzontale, ma sarebbe anche inefficiente. Perché? Perché se io devo, se ho un pool di risorse, lo devo spalmare su tutta la collettività, stante a parità di quel pool di risorse è evidente che quanto vai più poveri è di meno in un contesto di tipo universale rispetto a un contesto di tipo invece selettivo. Questa è una posizione diffusa che ci si sente dire, ritornerò su questo, noi recentemente col forum di disuguaglianze e diversità abbiamo difeso, con questo forum fatto con Fabrizio Barca, abbiamo difeso una posizione, una proposta di eredità universale e molto, quindi ritornerò leggermente un pochettino su questo nella relazione, e abbiamo avuto moltissime critiche. Perché dare a tutti i giovani diciottenni un certo montare di soldi quando ci sono quei figli, quei diciottenni potrebbero essere i figli di Totti, di Berlusconi e quindi perché non lo date soltanto ai poveri. Allora questa è la posizione diffusa e quello che cercherò di fare invece in questo mio intervento è di mettere qualche dubbio su questa posizione, mettere in discussione questa posizione. Con la mia conclusione non certo di sottovalutare l'importanza della selettività, le politiche selettive sono sicuramente politiche selettive, ma il punto è che non ci sono risposte ottimali. La selettività è piena di ombre, noi ne vedremo alcune, l'universalità anche essa c'ha evidentemente delle ombre e quindi una prospettiva più desiderabile per le politiche sociali, anche quelle orientate al contrasto della povertà, è quella di combinare dimensioni di selettività e dimensioni di universalismo e quindi muoversi in quella prospettiva che viene chiamata di targeting within universalism, quindi di mettere insieme le cose. Perché questo? Quali sono le ombre maggiori che io vorrei ricordare, che in certo modo l'ha già anche ricordata Emanuele, però focalizzo più su questo aspetto. Quali sono i problemi della selettività? Innanzitutto un problema evidente è che noi non abbiamo alcun modo per selezionare tutti coloro che sono svantaggiati. Ce la siamo presi, ce la prendiamo alcune volte, abbiamo detto che il reddito di cittadinanza fa male perché ha questa soglia di 6.000 euro dopo è alzata con gli affitti e poi dopo è alzata per le pensioni prima e poi per gli affitti e così via. Però questa soglia evidentemente è problematica, è problematica non solo perché come diceva prima Emanuele tiene fuori alcuni poveri assoluti, perché i poveri assoluti che abitano in città metropolitane sono fuori da questa soglia, ma in realtà contro forse anche i 5 Stelle tiene fuori anche dei poveri relativi, perché una cosa che non ho mai capito è perché ci si sia sempre riferiti alla famosa proposta di disegno legge del 2016, quando effettivamente l'incidenza di coloro che erano rischio di povertà faceva riferimento a una soglia di 780, quando invece oggi la soglia è 812, quindi già oggi se volessimo avere una povertà relativa dovremmo fare riferimento a 812 e non a 780. E vabbè comunque insomma le cose sono cambiate. Ma diciamo quindi c'è questo problema, però scusate, però questa questione ce l'ha la proposta del reddito di cittadinanza, ma ce l'aveva ancora gigantesca il REI, non è il REI che con la sua soglia di 3.000 euro fosse una misura così migliore, anzi questo è un problema che ce l'hanno tutte le soglie, perché non c'è nessuna soglia in grado di definire in modo univoco è accettabile per tutti chi è povero e chi non è povero. Seconda questione, l'ha già accennata prima anche questa Emanuele, riguarda non soltanto il livello della soglia, ma riguarda le scale di equivalenza, quindi come rendo equivalenti i redditi di famiglie diverse. Abbiamo detto che la soglia utilizzata per il reddito di cittadinanza è piena di problemi, e qua oggi sta citato Massimo, perché anche nel mio intervento Massimo Baldini viene citato, ricordo quest'articolo, questa volta con Baldini e Dusignolo che ci fa vedere tutte le esclusioni, non vado a ridirle, però essenzialmente un singolo con un minorenne riceve meno di una copia senza figli, una famiglia con un figlio maggiorenne stesso importo di una famiglia con due figli minori e così via. Cioè sappiamo che quella soglia di equivalenza per come è fatta pesa troppo poco gli incrementi di spesa che sono associati a famiglie numerose e quindi di nuovo esclude famiglie che sono di svantaggio. La questione degli affitti l'abbiamo già anche detto prima, 280 euro sono una cosa in una piccola comune, rurale ad esempio, 280 euro in una città metropolitana hanno un potere d'acquisto molto molto diverso. Ci sono tutti questi problemi, ma tutti questi problemi, ma tutti questi problemi esistevano anche con il REI. Il REI d'accordo aveva una soglia di equivalenza, usava una scala di equivalenza che penalizzava di meno le famiglie numerose, ma siamo veramente in grado che quella scala di equivalenza che pesava in quel modo le famiglie e il costo dei figli, più piccoli, più grandi, disabili, non disabili, fosse veramente in grado di prendere tutti coloro che erano svantaggiati? No, perché non c'è nessuna scala di equivalenza che è in grado di fare questo. Quindi il problema della arbitrarietà, in un certo senso, chiamiamola così, delle soglie, che sono sempre delle convenzioni che però rischiano di escludere soggetti che sono in condizioni di bisogno, è molto forte. Il problema è particolarmente forte quando le soglie hanno una finalità di esclusione. Mi spiego meglio. Quando noi si muoviamo soltanto nella prospettiva reddituale, allora noi sappiamo che il trasferimento integra le risorse reddituali che le famiglie hanno. E dunque, quando io mi approssimo alla soglia, ipotizzando di essere una che non ha nulla, che sono in casa d'affitto, di 780 euro, se io ho delle risorse proprie di 778 euro, prendo soltanto 2 euro. Quindi abbiamo quanto meno, quindi chi sta fuori non è che perde così tanto. Però quando noi abbiamo anche, come per esempio la questione che riguarda l'accesso all'affitto, abbiamo anche delle soglie invece patrimoniali, sia mobiliare sia immobiliare, che escludono, perché se tu hai più di 6.000 euro in patrimonio mobiliare, sei fuori, prendi nulla. E quindi è on-off, non c'è neanche questa gradualità. Il problema dell'univocità, dell'assenza di univocità e dunque di arbitrarietà delle scale di equivalenza, mi sembra molto forte. La seconda questione. Quindi prima grossa questione con i trasferimenti selettivi è appunto questo. Non abbiamo un modo univoco per dire prendo, il problema di targeting, prendo i giusti e soltanto quelli che sono giusti. E la soglia, nelle scale di equivalenza, mi danno delle risposte perfette. Il reddito di cittadinanza è problematico, ma non è che il reddito fosse così tanto meno problematico sotto moltissimi aspetti. Seconda questione, ingiustizie procedurali. C'è un bellissimo pezzo su questo tema di Rothstein e Ulsaner, che sono due politologi, i quali mettono in evidenza come i trasferimenti selettivi rischino di comportare delle ingiustizie procedurali. In che senso ingiustizie procedurali? Diamo per scontato che il problema a cui ho fatto riferimento prima, cioè quello della non-univocità della soglia, sia risolto. E che quindi noi abbiamo uno strumento per distinguere chi sta dentro, chi sta fuori, chi ci piace, eccetera. Ci ho detto però, in realtà, la questione è che la selettività crea inevitabilmente alcuni effetti. Quali sono gli effetti della selettività? Da un lato incentiva inevitabilmente i beneficiari a nascondere delle risorse e a non lavorare. Questo non è un atteggiamento, come dire, spesso viene tacciato come guarda quelli che sono dei pelandroni, che stanno lì e che sono moralmente depravati. Perché è un atteggiamento razionale. Se io so che, se dimostro di avere più risorse, perdo il trasferimento, e accedere ad avere più risorse è anche costoso, perché gran parte dei lavori che sono disponibili ai lavoratori in quelle condizioni non sono lavori particolarmente qualificanti e particolarmente attraenti, la risposta razionale è quella di massimizzante, quella che noi vediamo sempre come tipica del comportamento economico, anche se magari in maniera un po' semplicistica, però la risposta razionale è quella di dire, vabbè, io nascondo un po' di risorse, non c'è nulla di particolarmente strano o che soltanto i poveri fanno, è un comportamento assolutamente razionale. E quindi noi abbiamo questo problema di beneficiari che sono incentivati a nascondere risorse e a non lavorare. Gli assistenti sociali, dal loro canto, che cos'hanno? Hanno sostanzialmente due questioni. Da un lato rischiano, devono in qualche modo cercare di selezionare soltanto le persone che hanno effettivamente bisogno di accedere ai servizi e poi dopo, col fatto che molti dei sistemi di reddito minimo ormai proprio per contrastare i problemi della selettività obbligano a lavorare e quindi c'è condizionalità al lavoro, sono tutta una serie di interventi discrezionali e nel reddito di cittadinanza sono ancora più pronunciati ma erano evidentemente presenti anche nel REI, che sono a carico degli assistenti sociali che devono in un qualche modo guidare patti di servizio e così via le persone, i beneficiari del reddito a fuoriuscire dalle condizioni di povertà. Questa situazione rischia di creare due questioni. Una, una relazione di dominio, intendendo per dominio quello che un filosofo come Petit appunto definisce un'interferenza arbitraria nella vita delle persone. E dall'altro lato, perché? Perché c'è una posizione inevitabilmente asimmetrica. E dall'altro lato rischia di creare, e questo non è neanche un rischio ma è evidente, in genera inevitabilmente eterogeneità nelle risposte. E quindi a seconda dell'assistente sociale, a seconda del comune in cui mi trovo, a seconda del luogo in cui mi trovo, poveri che sono nelle stesse condizioni rischiano di essere trattati in modo diverso. Allora, queste sono tutte, come dire, ingiustizie procedurali. In che senso? Nel senso che è ingiusto, evidentemente, se persone che non dovrebbero rivelarsi povere fanno di tutto per rivelarsi povere, eppur potendo lavorare non lavorano, oppure addirittura nascondono un po' delle loro risorse, magari dandole figli e dandole ad altre unità familiari. Dall'altro lato, dal punto di vista degli erogatori, e quindi di chi dovrebbe erogare i trasferimenti e quanto è associato a questi trasferimenti, c'è un rischio, appunto, per gli assistenti sociali, di relazioni di dominio, da un lato, e dall'altro lato di eterogeneità, che è un'eterogeneità nei comportamenti che è inevitabile. Certo, io nel dire quello che ho detto, non voglio sopravvalutare i disincentivi a lavorare dei trasferimenti selettivi. So benissimo che accanto alle trappole di disoccupazione e di povertà, altrettanto potenti e prepotenti, altrettanto potenti sono le trappole cosiddette di opportunità. Ma le trappole di opportunità, cioè a dire le persone non lavorano perché non vogliono soltanto pagliare i soldi, ma anche perché non hanno opportunità per avere un lavoro decente, e che ci sono anche dei rimedi per contrastarle e così via. E che, appunto, tutto questo c'è. Però, ciò non di meno, anche se possiamo, come dire, non esaltare troppo la presenza delle trappole, le trappole sono, come dire, intrinseche a uno strumento che dice ti do se stai sotto e non ti do se stai sopra. Cioè, quello che viene chiamato cosiddetto effetto di sostituzione, perché qualsiasi trasferimento selettivo rende più costoso lavorare, meno costoso non lavorare, e quindi, di conseguenza, meno che il lavoro non sia particolarmente attraente, e quindi non sia un costo, una tendenza all'effetto di sostituzione ci potrebbe essere. Al tempo stesso ci sono moltissimi assistenti sociali che sono ultradedicati, ma a prescindere da questa, come dire, dedizione che è inevitabile, che è inevitabile, che è indiscutibile, scusate, è proprio nel tipo di relazione fra chi, come l'assistente sociale, può erogare il trasferimento, può al limite negarlo, perché sia nel REI e ancor più nel reddito di cittadinanza, in questo caso ci sono anche sanzioni con la cittadinanza, addirittura penali, nel REI soltanto invece si perdeva il trasferimento, comunque le sanzioni ci sono. Cioè, un rapporto di questo tipo è un rapporto che è inevitabilmente asimmetrico, e infatti a me colpisce un po' la parola di patto che viene utilizzata. Forse la vecchia tradizione politica, contrattualistica, parlava di patto come un patto freguale, cioè il patto deve essere freguale. Infatti non a caso la costruzione dello stato di natura era per fare una finzione, per avere uguali. E invece il patto qua è un patto fra persone che non sono in posizione uguale, intanto in quanto qualcuno ti può negare il trasferimento, ti può dire cosa fare, e qualcun altro invece non te lo può dire. E quindi queste ingiustizie procedurali sono appunto inevitabili, nella prospettiva dei trasferimenti selettivi, e ci possono essere anche negli interventi i cosiddetti più abilitanti, perché anche quando io cerco di attivare le persone, il rischio di paternalismo è sempre presente ed evidente. Dopodiché, quindi abbiamo con i trasferimenti selettivi, primo blocco di rischi, non abbiamo una soglia e delle scale di equivalenza che prendono tutti, secondo blocco di rischi, anche se avessimo scale di equivalenza e soglie che prendono tutti, gestire la selettività è molto complicato, e la complicazione si può configurare come producente dei rischi elevati di ingiustizie procedurali da parte dei beneficiari, perché essendo l'intervento selettivo avranno un incentivo a comportarsi in un certo modo, e da parte di chi offre l'assistenza, di chi offre il trasferimento, che è sottoposto, che è soggetto, ha rischi dal lato di comportarsi con un'interferenza arbitraria nei confronti degli altri, quindi dando luogo a rapporti di dominio, e comunque eterogeneità è evidente, per cui a parità di condizioni una stessa persona può essere trattata in un modo, in una certa zona del paese, in una certa persona, e in un altro modo, invece, in un'altra area del paese. La terza, il terzo, la terza questione, ha a che fare, la accennava già prima anche Emanuele, sempre con la selettività, e sono i rischi di divisione fra noi e loro, classico us and them, come dicevano i Fabiani, quindi il rischio di divisione fra noi che diamo e loro che ricevano, fra chi è in grado di farcela e chi, a me non piace molto la parola, resta indietro, nel senso che, e chi deve, perché mi sembra che la vita debba essere una corsa, o comunque chi non è in grado invece di accedere a un insieme di opportunità. E questo può avere degli effetti indesiderabili in termini di violazione dell'uguaglianza morale. Devo dire che, come sicuramente a molti di voi, tutta questa retorica sulle misure antidivano, il modo stesso in cui il governo ha presentato nelle sue slide il reddito di cittadinanza come misure antidivano, cioè l'idea di chiamarle antidivano, c'è un incentivo, ma c'è un incentivo che è esattamente lo stesso di tutti noi, non è soltanto di loro. È un rapporto a costi-benefici che riguarda me, riguarda te, riguarda tutti quanti, quindi soltanto prendere quel gruppo e dire che loro sono gli antidivano mi sembra veramente una violazione forte dell'uguaglianza morale. Nella sottovalutazione, peraltro, delle nostre responsabilità nella creazione della povertà. Ne parlerà probabilmente Stefano nella sua relazione, ma addirittura io vorrei dire che non solo questa divisione noi e loro, quelli che devono essere aiutati perché restano, al meglio sono poverini che restano indietro e al peggio sono invece dei parassiti un po' immorali. Ecco, questa visione sottovaluta completamente le nostre, di chi è più avvantaggiato e su questo ritornerò, responsabilità nella creazione della povertà. e addirittura rischia di generare degli effetti perversi nel senso di ancora di più renderci irresponsabili. Un esempio, per evitare misure antirivano mettiamo norme di condizionalità strettissime e facciamo di tutto perché queste persone lavorino. Ad esempio, nel reddito di cittadinanza abbiamo le otto ore obbligatorie di lavori e di comunità aumentabili a sedici, come sappiamo, se ci vuole consenso ma per le prime otto non ci vuole il consenso. bisogna trovare un lavoro che sia più o meno compatibile con le caratteristiche della persona ma è un obbligo questo. Questo tipo di attenzione perché molti di questi lavori potrebbero spiazzare lavori che invece vengono fatti da lavoratori unskilled sul mercato, giardinieri, lavori di tutto questo tipo, creando quello che un economista un premio Nobel come Phelps chiamò il paradosso del duro lavoro anche nel senso che oggi abbiamo persone che non prendono il reddito di cittadinanza che fanno giardinieri o altri mestieri diciamo più unskilled con uno stipendio molto basso che si vedono sfavoriti perché è chiaro che più aumenta l'offerta di lavoro obbligatoria e gratuita nel Workfare più il rischio che quelle persone non vengano occupate o che abbiano la diminuzione comunque delle ore di lavoro che vengono domandate è elevato. a seguito di tutte queste tre cose quindi problemi della soglia problemi dell'ingiustizia procedurali problemi della divisione fra noi e loro abbiamo poi ancora un rischio di buchi ulteriori indiretti nella copertura in che senso? Senso falsi negativi classico problema noi sappiamo che il problema dei falsi negativi va al 40% 80% nei sistemi europei addirittura perché? perché molte persone quando si vedono noi e loro divisi oppure sottoposte a rischi di dominio di procedure c'è un bel libro fra l'altro di Compassant perché è un libro secondo me bellissimo è un romanzo di una giovane donna di Glasgow che ha scritto nella pausa pranzo quando andava a mangiare che si chiama mi chiamo Olly Elephant e sto benissimo e Olly Elephant è fortissima perché lei è una donna che è seguita dai servizi sociali e se li vede arrivare a casa e allora pulisce la casa per farseli arrivare eccetera e poi questi incominciano a chiedere cosa hai mangiato se per caso ho letto qualcosa lei dice io rispondo ma potessi io chiedere la stessa cosa potessi io reciprocare e dire tu cosa hai mangiato e tu che cosa hai visto quindi questo rapporto di dominio comunque così sono orgogliose che non vogliono stare dentro questo sistema rischi di penalizzazione dei bambini che si trovano in queste famiglie come dire sottoposte a tutte queste condizioni ne parlerà sicuramente Chiara dopo e c'è un rischio più generale e questo sottolineato in particolare dai due politologi che facevo prima riferimento Rothstein e Ulsaner di indebolimento nel tempo della sostenibilità politica dei programmi contro la povertà perché se manca la fiducia se io non ho fiducia in te povero perché penso che tu mi sfrutti e staresti sul divano se io vedo che il mio vicino prendi soldi e invece io non li prendo se vedo che tutte queste cose che vengo trattata come se fosse una persona moralmente inferiore è chiaro che dopo un po' la fiducia la sostenibilità di questi programmi che sono così cruciali rischia di minarsi e di diminuire di fronte a questi problemi ce ne potrebbero essere altri ma su questo mi fermo di fronte a questi problemi abbandono della selettività a favore dell'universalismo come ho detto no evidentemente la risposta è troppo radicale questa semplicemente il mio punto era far vedere che fare parti diverse fra i diversi nella prospettiva della selettività non è necessariamente una buona cosa cioè ha sicuramente un'attrattiva ma ha una serie di ingiustizie e quindi non diciamo che soltanto diciamo che quella è la giustizia no perché ci sono una serie di problemi che ho cercato seppure velocemente di mettere in evidenza l'universalismo ha chiaramente i vantaggi opposti nel senso le luci dell'universalismo sono esattamente le ombre della selettività non dobbiamo fare selezione includiamo tutti siamo tutti uguali ci poniamo tutti all'interno degli stessi programmi degli stessi programmi quindi non c'è da fare non c'è il problema dell'arbitrarietà delle soglie non c'è il problema di qualcuno che decide come mi devo comportare e così via non abbiamo però evidentemente l'universalismo ha anche come dire dei costi i costi sono esattamente il fatto che non tiene conto della eterogeneità dei bisogni e delle condizioni individuali allora la via dovrebbe essere quella secondo me di coniugare universalismo e interventi selettivi e quindi una superiorità di un sistema misto e io mi limito come voi avete già visto fino adesso mi sto occupando essenzialmente del piano monetario dei trasferimenti monetari è chiaro che per quanto riguarda alla fine i servizi si parla di universalismo però mi sto parlando anche sul piano dei trasferimenti monetari che sono quelli che già nel nostro paese piacciono meno anche nel caso dei trasferimenti monetari mi sembra che sia interessante che sia sotto un profilo di giustizia indagare e ricercare vie che sanno coniugare universalismo e interventi selettivi quali sono le ipotesi di questa coniugazione una ne sentiamo parlare parecchie volte in questo periodo reddito di cittadinanza in senso stretto reddito quindi non il nostro reddito incondizionato e reddito sia rispetto alle risorse sia rispetto all'obbligo al lavoro e interventi selettivi questa ad esempio è la prospettiva di Van Parais Van Parais classico diamo una base comuna a tutti e poi sulla base della diversità non dominata possiamo accettare un'integrazione in più per chi ha dei bisogni particolari questo non possiamo andare al momento misura troppo costosa la lascio lì la butto lì così velocemente e penso che sia impossibile l'altra qual è? l'altra è quella di nuovo penso che di questo parlerà chiara quindi lo metto soltanto così velocemente come un accenno è quello che gran parte delle esperienze comparate europee e non europee sembrano dimostrare che una via molto feconda è quella di avere un sistema di trasferimenti universali o quasi universali io sarei universali ma comunque quasi universali nel caso a sostegno dei costi dei figli e interventi selettivi questa misura perché è importante? beh perché noi sappiamo che nel nostro paese abbiamo dei buchi giganteschi chi è incapiente non prende le detrazioni per carichi familiari chi non è lavoratore dipendente non prende gli assegni e chi non è povero poverissimo non prende l'assegno per il piccolo bonus bebè e però peraltro fino a tre anni quindi se è bambino a quattro anni e quindi e sappiamo al tempo stesso che dove è cresciuto di più il rischio di povertà c'era un bel pezzo di Gori sulla rivista delle politiche sociali dove è cresciuto maggiormente il rischio di povertà in questi anni e nelle famiglie a partire da quattro componenti quindi con due figli sostanzialmente allora se questo è vero una politica di questo tipo che cosa fa? ha la volontà di fare che cosa? ha la capacità non la volontà ha la capacità di fare che cosa? ha la capacità di comunque contrastogliere già molta povertà senza dover fare riferimento a queste misure così complicate a gestire così a rischio di ingiustizia come i trasferimenti selettivi mi tolgo già un bel po' di povertà così poi ce ne sono anche delle altre mi tolgo un bel po' di povertà e poi dopo faccio un intervento come dire addizionale integrativo per coloro che sono ancora diciamo in condizioni di povertà anche dopo questo tipo di intervento a questo proposito solo due piccole cose la prima è che credo che l'intervento ma questo forse è una mia posizione credo che l'intervento per la povertà debba comunque essere generoso e quindi forse in questo senso ben ha fatto il reddito di cittadinanza ad alzare molto gli importi rispetto al rei però deve essere molto più residuale non deve essere la misura portante come sta capitando con il reddito di cittadinanza ma deve essere un intervento integrativo residuale come diceva forse anche Stefano nella sua introduzione una volta che abbiamo una serie di altre politiche una cosa un po' periferica però ci terrei a dirla nel fare questo tipo di cambiamento nell'effettuare questi cambiamenti secondo me dovremmo però fare un po' di attenzione quando si come dire si cerca di ricombinare universalismo selettivo e selettività a quali istituti vogliamo cancellare e non cancellare nel senso che faceva prima riferimento Emanuele a quel bel lavoro che era stato presentato anche a Lirso un po' di tempo fa il quale ci faceva vedere come tanti soldi in Italia vanno a famiglie che sono nella parte più alta dell'Isee quindi vanno a famiglie che non sono povere e fra queste si cita sempre gli 80 euro ad esempio allora gli 80 euro sicuramente sono una meno sicuramente ci sono buone ragioni per dire che gli 80 euro sono una misura molto problematica ma se gli 80 euro fossero un modo sbagliato per rispondere a un problema vero e il problema vero è quello della elevatissima tassazione IRPEF sui bassi redditi che noi abbiamo nel nostro paese e l'abbiamo elevata per due ragioni sia perché l'aliquota marginale la 23 è subito molto alta e poi passa subito la 28 ma si alza molto e così via ed è molto alta anche perché noi abbiamo le detrazioni decrescenti per cui l'aliquota marginale effettiva rischia di essere oltre il 30% già sui più poveri ora se l'obiettivo fosse quello di alleggerire la tassazione sui redditi più bassi ci sono misure quella misura lì per me è giustificata penso che gli 80 euro siano sbagliati come risposta a quel problema ma il problema esiste e se facendo questo dei soldi vanno anche a famiglie più ricche perché una componente di quella famiglia guadagna poco e quindi è tassato di meno e l'altro guadagna di più a me quel tipo di misura sembra totalmente giustificabile perché semplicemente ha a che fare con il disegno della progressività nel nostro sistema quindi attenzione io un po' di come dire metterei un po' di cautela a dire tutto questo va ai ricchi e quindi non va tanto bene nei trasferimenti monetari anche oltre alla questione dei figli che difendevo come un trasferimento universale perché ci sono una serie di istituti che sono giustificati da alcune finalità le detrazioni per lavoro dipendente peraltro sono giustificate anche perché i lavoratori dipendenti non possono come dire sottrarre i costi per la produzione del reddito quindi un po' di attenzione nel che cosa mettere quando noi facciamo queste operazioni secondo me perché non è tutto povertà o figli e quindi pur con questi cavet mi sto avviando verso le conclusioni pur con questi cavet quello che ho cercato di fare in questo intervento che cos'è spero di averlo reso abbastanza chiaro è di far vedere che la selettività è densa di rischi non possiamo non abbandonare diciamo abbandonarla ma una via che appare secondo me più promettente è quella di utilizzare politiche trasferimenti monetari selettivi in maniera residuale all'interno di un plafond di una rete di una base universale che ci qualche meno ci permette di evitare tutte quelle ingiustizie che sono connesse alla selettività le ultime battute sono il mio intervento è stato sicuramente molto limitato lo so benissimo perché ho focalizzato tutta quanta l'attenzione sui trasferimenti monetari e ho voluto far vedere come trasferimenti monetari universali come nel caso appunto del sostegno al costo dei figli possono essere giustificati anche ai fini del contrasto della povertà perché servono anche a questo e servono a risolvere alcuni problemi seri della selettività mi sono voluta concentrare su questo per la ragione che la selettività invece è spesso molto apprezzata in campo monetario perché dare soldi ai ricchi e quindi mi sono proprio voluta come dire focalizzare sul campo più controverso quello per il quale mi sembra più importante ragionare in questi termini sicuramente questa accoppiata trasferimenti universali e trasferimenti selettivi monetari è soltanto come già diceva Emanuele è soltanto un piccolo pezzetto all'interno di una revisione dei rapporti di integrazione fra le diverse politiche che possono contrastare la povertà non c'è soltanto la questione che non ho trattato dei trasferimenti dei servizi che è quella dove c'è secondo me fra di noi sicuramente anche più consenso penso che in questa sala siamo tutti d'accordo sull'importanza dei servizi non ho trattato perché penso che ne trattava Stefano di trasferimenti selettivi e categoriali come possono essere i crediti imposti ai lavoratori poveri o comunque altre forme di sostegno al reddito dei lavoratori poveri vorrei soltanto chiudere con una domanda che mi faccio e che secondo me vorrei condividere con voi che molto probabilmente ci sono molte buone ragioni per ritenere che le politiche contro la povertà però devono essere imprimolute che noi possiamo riuscire a contrastare la povertà soltanto se mettiamo in campo politiche contro la disuguaglianza cioè noi siamo molto spesso con la disuguaglianza anche nella parte alta perché è chiaro che se io riduco la povertà quantomeno nella parte bassa c'è meno disuguaglianza quindi è chiaro che una politica che fa stare meglio chi sta peggio diminuisce la disuguaglianza ma questo invece il mio punto è che probabilmente e qua cito una cosa che citava Tonei che era una citazione di Tonei che è molto bella che diceva quello che i ricchi chiamano il problema della povertà i poveri chiamano il problema della ricchezza cioè a dire che se noi non ci occupiamo anche di ridurre la disuguaglianza nella parte alta è probabilmente molto complicato contrastare efficacemente la povertà perché? perché ad esempio non soltanto perché i ricchi poi dopo non pagano le imposte e così via ma a prescindere da queste questioni perché una società così divisa dove chi è molto ricco se ne va come in quel bel rapporto dell'Ox prende la mongolfiera se ne va via se ne abbandona la terra e così via è un paese dove gli uni non si vanno più con gli altri le scuole diventano sempre più segregate i quartieri sempre più segregati e contesti i più ricchi possono avere l'istruzione non so se avete visto questo piano di questo marito di Priscilla Rattazzi che non mi ricordo come si chiama che è un piano di sviluppo delle scuole per i figli dell'1% per cui dall'asilo fino al pre-università possono andare in tutto il mondo scuole peraltro progettate da Renzo Piano scuole molto belle ecco allora un mondo così dove si è tutti così separati è un mondo che rischia come dire di rendere la povertà inevitabile perché se c'è questa segregazione sociale territoriale così forte viene a essere difficile e poi molto spesso i poveri sono poveri perché nell'ultimo periodo noi abbiamo avuto all'interno delle imprese una distribuzione del valore aggiunto che è andata tutta da una parte e molto poco dall'altro e se non mettiamo in discussione quella distribuzione del valore aggiunto che vuol dire prendere meno chi prende di più e dare un po' di più a chi prende di meno la povertà non verrà mai risolta e quindi io penso che alla fine le politiche per loro sono in realtà politiche che riguardano noi che devono in qualche modo modificare più complessivamente la disuguaglianza nella quale noi siamo grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti